però stai bene oggi brava oggi il 22 aprile è l'earth day la giornata mondiale della terra e quindi è bello ricordarsi di avere cura del nostro pianeta dell'ecologia dell'ambiente e tutelarlo certo per avere cura della terra sarebbe bello poter piantare un albero oggi ognuno di noi ma non è possibile allora cosa possiamo fare beh innanzitutto avere un po di verde a casa nostra e curare il verde con tanto amore e poi due cose la prima è curarci con dei rimedi verdi perché la medicina naturale fa bene a noi e fa bene alla terra la seconda è curare la propria alimentazione e scegliere quelle abitudini anche a tavola che rispettano il pianeta per esempio mangiare meno carne che contribuisce ad avere un ecosistema terrestre più equilibrato e quindi più sano per noi scegliamo anche prodotti da agricoltura biologica che contribuiscono a inquinare meno la nostra terra e possibilmente a chilometri zero così anche l'inquinamento del monossido di carbonio e dei gas inquinanti si riduce e noi possiamo respirare aria più pulita come tutti desideriamo la salute del nostro pianeta non dipende dagli altri non devono pensarci gli altri possiamo pensarci tutti noi ognuno di noi anche nelle piccole scelte quotidiane e quanto più possiamo immergiamoci nel verde stiamo in compagnia di madre natura perché la salute del pianeta dipende anche da noi naturalmente anche tu ami la terra il nostro meraviglioso pianeta e allora metti un bel mi piace e condividi un po di sana coscienza green con i tuoi amici buon earth day buona giornata della terra a tutti naturalmente